Tutta la provincia, nell'ERP, c'è una lista di spesa di circa 6.000 famiglie. Quindi noi speriamo che l'emergenza casa ci sia e ad esempio un modo per reperire alloggi già costruiti, alloggi stessi, un modo per reperirli e metterli a canone concordati potrebbe essere fatto tramite la costituzione dell'Agenzia Casa dei Comuni perché in diversi comuni e anche nel Comune di Modena è già existente però il numero di questi contratti sono ancora esibili. Tutta la provincia, nell'Agenzia Casa dei Comuni, abbiamo un 250 alloggi. Quindi noi riteniamo che alla fine di questo anno o all'inizio del prossimo anno bisognerebbe arrivare a Rappiari. Grazie.